Dalle ore 12 di oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80 a Terminale. Oltre alla categoria dei fragili, degli anziani, delle case di riposo e dei sanitari, la Regione Veneto ora apre le terze dosi anche agli over 80 con prenotazione direttamente dal portale. Può prenotare la terza dose per chi ha più di 80 anni da subito. Il sistema è intelligente, l'assessore ha seguito questo lavoro e quindi dà la possibilità di prenotare se ha fatto la seconda dose a più di sei mesi. La campagna in Veneto procede spedita e in una settimana è aumentata la copertura vaccinale della popolazione. La scorsa settimana eravamo a 80,9% percentuale regionale e udite udite, mi sa che sia vero quello che ho detto, che arriviamo all'85%, siamo già all'82,3%. A dimostrare l'efficacia dei vaccini i dati che arrivano dal report settimanale che mostrano un Veneto con un'incidenza di 40,7 casi ogni 100.000 abitanti, un R con T a 0,86, l'occupazione delle terapie intensive cala di un punto percentuale e si attesta al 5%, medesimo andamento per l'area non critica che è al 3%. Un bilancio positivo, ma è necessario attendere metà ottobre per analizzare quello che sarà l'impatto dell'apertura delle scuole sull'epidemia, vista l'esperienza dell'anno scorso, quando con il rientro in classe degli studenti si era registrata una recrudescenza del contagio. Linea blu, quella dell'anno scorso, quindi vedete la freccia, la freccia blu, vedete che dopo la freccia inizia a crescere, sono i contagi che crescono dopo l'apertura delle scuole. La linea rossa è quella attuale, cioè 2021, luglio 2021, settembre 2021, dall'apertura della scuola a freccia rossa calano i contagi. E a proposito di scuole, la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione regionale, ha analizzato nuove linee di intervento in caso di positività in classe per evitare la quarantena di tutti gli studenti. Si possono tenere presenti ad esempio dei parametri, no? quanti vaccinati ci sono in quell'aula, ma non in via discriminatoria, per applicare un algoritmo che dice che la possibilità in presenza di tutti questi vaccinati è che comunque si è creata una bolla anche a favore di quelli che non sono vaccinati. L'altro aspetto, dov'è fisicamente, a che distanza si trovava l'eventuale positivo rispetto agli altri ragazzi? Un piano che il Veneto ha presentato durante la prima riunione del neocostituito gruppo di lavoro per la quarantena scolastica, di cui fanno parte Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Ministero. Intanto si attendono le linee guida anche per la somministrazione del vaccino contro l'influenza stagionale, di cui il Veneto ha acquistato 1.638.000 dosi, circa 300.000 in più rispetto allo scorso anno.